ciao ciao a tutti bentrovati e bentornati nel mio canale un bacio da patrizia allora oggi nuovo video outfit un video how to cioè come indossare in questo caso un paio di scarpe molto molto particolari che vedrete si adatteranno a tantissimi outfit ma di quali scarpe sto parlando allora di queste scarpe qui questo modello la sling back modello chanel queste sono delle scarpe che hanno la caratteristica di ispirarsi alle famosissime scarpe chanel che sono appunto proprio esattamente così quelle più classiche con questo abbinamento di colore cioè beige e nero questa è una scarpa che è stata creata proprio da gabrielle chanel per un motivo particolare allora perché il colore beige vicino all'inizio della gamba insomma la caviglia perché è un colore che si ispira al colore della pelle o perlomeno che può prendere diverse carnagioni diverse tipologie insomma di carnagioni di pelle e quindi slancia la caviglia allunga la gamba e la punta nera da parte sua invece diminuisce allunga il piede e quindi questo duplice effetto ottico ci fa sembrare più alte più slanciate più filiformi è un modello che è diventato iconico che è stato quindi anche replicato da tantissimi brand e un po old style vintage è rimasto old style vintage perché questo modello c'è da parecchio tempo ma che negli ultimissimi anni nelle ultimissime stagioni ha rivissuto un suo ritorno insomma è ritornato molto molto in auge la scarpa originale di chanel costa intorno ai 700 euro mi sembra ed è esattamente così poi ce ne sono tante varianti cioè tanti diversi abbinamenti di colore c'è tutta nera magari con delle texture diverse l'hanno fatta anche in stoffa c'è bianca e nera grigia e nera insomma diverse varianti ma questa è la classica a un tacco medio questi saranno cinque centimetri è comoda a una pianta questa ma insomma quella di chanel è praticamente identica non sottile non stretta punta leggermente squadrata e può piacere o non piacere ma se seguirete il mio video vedrete che la potrete abbinare a una marea di cose diverse che neanche immaginavate si presta a tantissimi tipi di look dal più classico come potrebbe sembrare a quello più grintoso più audace anche più trasgressivo basta avere un po di fantasia ma dove le ho comprate io queste queste non sono le originali io non avrei potuto spendere insomma quella cifra ma ho trovato appunto un ottimo compromesso il produttore è barca è una scarpa italiana in pelle italiana e c'è anche lo store barca stores.com e hanno tantissimi modelli e l'ho pagata con un leggero sconto qualche settimana fa ma insomma questo è un modello ricorrente che viene sempre riproposto io l'ho pagata con un leggero sconto mi sembra un'ottantina di euro una cosa una cosa già forse anche un pochino meno comunque siamo siamo lì il che per una scarpa in pelle perché questa è una scarpa in pelle morbidissima per me è un vero affare io comincio ad avere problemi con i piedi e da tanto tempo che non indosso più i tacchi molto alti e con le punte quindi le scarpe appuntite non le riesco più a mettere mi si è allargato il piede dopo la nascita dei miei figli e di mio comunque ho una pianta abbastanza larga quindi purtroppo tante tante tipologie di scarpe che pur mi piacciono io non le posso indossare queste sono comodissime ma veramente comodissime ci potete fare anche delle passeggiate e vi assicuro che il fatto che abbiano questa sling bag che non siano completamente chiuse insomma le rende le rende ancora più comode è un modello però che potrete indossare tutto l'anno cioè nasce per l'autunno e per la primavera perché all'apertura sul tallone è vero ma io le ho indossate anche con le calze pesanti ora nel video negli outfit che vi mostro no ero in casa e le calze non le portavo però per uscire io le ho messe anche con le calze pesanti stanno benissimo calze nere nere quindi proprio anche a contrasto bene io le consiglio andate a dare un'occhiata ci sono anche altri produttori altri dupe anche amazon le vende a 20 25 30 euro ma sono in ecopelle le trovate in ecopelle a molto meno io le ho volute prendere in pelle perché ho un piedino un po delicato e particolare ma per togliervi uno sfizio se non avete problemi perché no sappiate che le trovate le trovate anche a molto molto meno ed ora apriamo le danze e vi faccio vedere come ho abbinato queste scarpe bene iniziamo con il primo look che è un look semplicissimo e forse secondo me anche il più azzeccato una maglietta stile francese a righe un jeans un po più carino più simpatico e le scarpe vedete che le scarpe si abbinano a qualunque tipo di outfit davvero a partire dal jeans con un look più sbarazzino diciamo ma poi vedrete anche ad altre tipologie di look senza senza dubbio ed eccolo qua il jeans con la scarpa chanel una cintura in vita e una maglietta alla francese questo è un look comodo ma non banale assolutamente che vi fa sentire sempre a posto sopra una giacca anche un giubbottino jeans o una giacca blu e via veniamo ad un look più invernale sopra a questo outfit ho messo un maglione poncho un cappello che è di barbari e indossato la borsa gucci quindi anche altri brand vedete che anche con altri brand queste scarpe si mescolano benissimo perché sono universali si adattano un pochino a tutto e questo poncho l'ho poi abbinato a un pantalone nero in maglia quindi un pantalone comodo caldo che praticamente va bene con tutto stesso pantalone comodo caldo con un maglione a tunica nero e ho cambiato solo la collana ho mantenuto la stessa borsa e qui vediamo il maglione di prima ma senza pantalone quindi con le gambe scoperte io qui non indosso le calze ma potete anche metterle tranquillamente le calze se avete freddo io qui sono in casa e quindi me lo so non potevo permettere ma queste scarpe vanno benissimo anche con le calze pesanti qui ho indossato il leggins maglione di prima l'ho reso un po odace con un classico leggins stile anni 80 che non mettevo più da una vita e l'ho reso sexy questo leggins con una maglia un po traforata vedo non vedo non avrei mai immaginato di uscire così vestita così ma questa scarpa rende il look più audace portabile comunque guardate un po con una giacca sopra come si trasforma come diventa quasi serio qui vediamo la scarpa indossata con un abitino in piedi pool a trapezio autunnale che con un card con un maglioncino sotto una maglietta diventa anche invernale e qui vediamo un altro grande classico con un maglione caldo questo è in cashmere e un jeans classico 5 tasche abbinamento perfetto per tutto e qui ho reso il tutto molto molto chanelloso perché ci ho abbinato sopra una tipica giacca modello chanel nulla di questo è firmato questa è una giacca che costa davvero pochissimo però vedete che insomma sembra un po tutto molto molto più costoso altro abbinamento molto tradizionale è con la maglietta alla marinara e potete vedere che anche il bianco e nero in questo caso sta bene con il beige e nero sono abbinamenti che a me perlomeno piacciono molto qui ho voluto fare una cosa diversa in questo caso un abitino che nasce come abito estivo ma va bene anche per l'autunno lo si può indossare magari con un cardigan sopra e le calze pesanti e può andare bene per tutte le stagioni e questo è un look da sera qui mi sono proprio divertita con una gonna un po giocosa e vaporosa e una camicia in saten di raso per un look insomma per un teatro quando si potrà tornare per un compleanno una festa in discoteca l'ho abbinato ad un cappotto sartoriale in velluto nero lungo quasi fino alla caviglia che rende tutto molto molto più insomma serioso no però secondo me ci sta bene in questo look bene questo è un recap di tutti gli outfit che io vi ho proposto spero che le mie idee vi siano piaciute come vedete queste sono scarpe davvero molto 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 versatili che con un po di fantasia vi potranno tornare utili in tantissime occasioni in tutte le stagioni o quasi tranne quando fa veramente molto molto caldo e secondo me insomma è una una scarpa questa che merita davvero io vi ringrazio di avermi seguita e se vi va ci vediamo al prossimo video ciao un bacio grande grande